Antonio Gramsci, l'albero del riccio, editori riuniti, marzo 1973. Il testo utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Liber, edizione elettronica a cura di Claudia Avitabile, lettura di Silvia Cecchini, revisione di Ezio Sposato, musiche di Johann Sebastian Bach. Nell'ordine Aria sulla quarta corda, secondo movimento della suite per orchestra numero 3 in re maggiore, BWW 1068. Sonata in La maggiore per flauto traverso e clavicembalo, BWW 1032. Herz und Mund und Tat und Leben, BWW 147. La presente lettura è stata realizzata per il progetto Libro Parlato. Sito internet www.liberliber.it 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 www.liberliber.it